Mauro Valentini, giornalista, scrittore, autore recentemente del libro dal titolo Lo chiamavano Tyson, pubblicato da Armando Editore. Buonasera Mauro, grazie per essere qui con me. Buonasera a te e grazie per l'invito. Questo libro è una storia con una narrazione che ha un ritmo via via sempre più frenetico, incalzante. Io devo ammettere non riuscivo a staccarmi da queste pagine e credo che sia un buon segno, no? Beh insomma è il sogno di tutti, quando scrivi un libro hai quella speranza che qualcuno rimanga lì attaccato. Io ho letto recentemente un libro di Stephen King che racconta non tanto come si scrive un libro, quanto la sua esperienza di scrittore, però una cosa mi ha colpito molto. Lui dice a tutti quelli che lo leggono che per quanto voi siate bravi nello scrivere l'importante è creare quella situazione in cui il lettore abbia voglia di girare pagina. Ecco, quando tu mi dici queste cose o quando altri che leggono mi dicono appunto questo ritmo incalzante, questo voler sapere dove si va a finire in questa vicenda, mi rendo conto che forse il lavoro era proprio quello che volevo, cioè portare chi legge alla curiosità di girare la pagina. Questo libro è un genere letterario un po' inedito per te, no? Perché i tuoi precedenti libri sono libri di inchiesta in cui racconti storie vere di cronaca nera, fatti terribili ma realmente avvenuti e immagino quindi che poi scrivere questo genere di libri sia cosa ben diversa, no? Ci vuole, bisogna sempre un po' dosare la verve dello scrittore con invece un certo rigore giornalistico, poi essendo storie vere ci vuole anche molta delicatezza. Sì, è vero, è un passaggio completamente diverso, devo dire che forse il giornalista che è in me la coda di quello che è stato, insomma la mia attività letteraria che tu hai accennato, un pochino me la porto dietro questa storia che ha anche delle storie che sono realmente accadute, che sono legate a, per esempio, allo sfruttamento degli immigrati non clandestini, ma che poi diventano clandestini indiani di una zona come quella dell'agropontino che io conosco molto bene, visto che ci abito, e anche altri fatti di cronaca che sono realmente accaduti e che si intersegano invece in questa storia che ho inventato. In un certo senso quello che dici tu è vero perché proprio la modalità di scrittura è diversa e paradossalmente ho sempre avuto attenzione nel raccontare il dramma vero per un pudore, per un'attenzione proprio per quelli che sono le vittime, i familiari delle vittime e anche consentimi anche di chi è stato poi a operare l'atto di violenza in sé, e quindi mai senza giudicare troppo, secondo me, insomma almeno penso di esserci riuscito, mentre invece con la libertà della narrativa creativa della fiction mi sono permesso, come hai visto anche, delle licenze anche molto forti per quello che riguarda il linguaggio e anche le situazioni. Insomma è chiaro che la libertà di raccontare storie che fortunatamente finiscono quando chiudi il libro e non sono code di drammi di famiglie che poi sono realmente accaduti, ti consentono una libertà di espressione decisamente diversa, quasi proprio salvifica per uno come me che quando ha rapporti con le persone che hanno avuto, con i familiari delle vittime, tende poi a empatizzare così tanto da diventare quasi una sorta di parente insomma, ecco, e questo secondo me per un giornalista è pericoloso. Ma raccontaci un po' questo cambio proprio nel genere letterario, cioè questo libro era un libro che avevi nel cassetto, che avevi voglia di scrivere o è nato così improvvisamente, inaspettatamente? No, il libro nasce, o meglio l'idea di questa storia nasce da un concerto che sono andata a vedere diversi anni fa di Getro Tal, che infatti nel libro sono centrali. Ho visto in questo tenda a strisce a Roma, con i Getro Tal già anziani, che mi hanno anche un po' intenerito, insomma, perché ormai stiamo parlando di un gruppo rock che ha fatto la sua storia negli anni settanta, insomma, quindi dopo cinquant'anni veramente mi hanno fatto anche un po' tenerezza, però ancora capaci e bravi. Ecco, c'era vicino a me un energumeno, un personaggio così improbabile e così assurdo trovarlo in un contesto, se permetti, abbastanza colto, com'è la musica progressive degli anni settanta, quella di Getro Tal che va addirittura a cogliere sonorità medievali e storie di altri tempi, molto colte. Bene, questo personaggio mi ha colpito perché nella sua rozzezza, nel suo modo di essere veramente orribile da tutti i punti di vista, era invece permeato dalla conoscenza e dall'amore per questo tipo di musica e allora mi sono detto che la musica probabilmente lega diverse personalità che so che non si fonderebbero mai, non si inconterebbero mai, ma che attraverso l'amore per la musica invece in un certo qual modo trovano un filo conduttore. Ecco, ho pensato, voglio raccontare la storia di un uomo che appare violento e iracondo, ma che invece è sensibile ed è venuto fuori il mio Fausto Colasanti, detto Tyson, perché sembrava Tyson proprio, sembrava un Tyson bianco e poi quindi intorno a lui ho costruito questa storia di tentativo di risarcimento della vita di questo uomo che alla soglia dei 50 anni ha questa opportunità data dall'incontro con un uomo molto ricco che abita a poche centinaia di metri da casa sua, ma in tutt'altro contesto. Chi conosce l'euro a Roma sa che è un po' la Beverly Hills d'Italia, ci sono delle ville lussuosissime, stratosperiche, forse anche inimmaginabili, dietro dei muri di cinta a 500 metri ci sono però dei quartieri popolari dove il degrado, dove la vita è veramente complicata. Ecco, questo connubio incredibile che avviene tutto in questa zona, io l'ho voluto raccontare dentro questo romanzo e dentro la villa di questo commendatore Peroni che è il centro di tutta la storia. E di fatti, come dicevi tu, la storia è ambientata in questa zona nota di Roma e che è proprio l'euro che io non conosco, ho imparato a conoscere tramite il suo libro perché tu la racconti molto bene questa zona che è un po' emblematica. Possiamo dire che realtà del genere, con questi forti contrasti, zone più povere, poi magari separate semplicemente da una strada, da un diale, da pochi metri, da zone invece molto ricche, le possiamo trovare un po' in tutte le città d'Italia, Catania, Napoli, Firenze, non so. È vero questo che dici, però ti assicuro che l'Eur, che è un quartiere che io amo e forse si percepisce anche da come scrivo, io ho abitato vicino, però ho abitato nel quartiere più complicato, sono cresciuto nei quartieri più complicati dell'Eur, però io credo che questa commistione così vicina da un punto di vista proprio geografico, tu parlavi di un viale, esatto, proprio viale Cristoforo Colombo, divide quasi come se fossero due mondi a parte, una parte dall'altra, ecco, e li protegge sotto certi punti di vista, perché quelle ville hanno poi un sistema di protezione e di dissuasione molto particolare, insomma è veramente una città nella città, un bunker quasi nella città. Però è vero che l'Eur ha tanto 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 di bello, di architettonico, nasce per l'esposizione del 1942, che poi non si farà mai per colpa della guerra, però c'è una visione dal punto di vista architettonico, seppur il regime la usa per propaganda, però poi a un certo punto la lascia in eredità alla nuova Repubblica italiana e in effetti è il centro di tanti uffici, di tanti ministeri e però ha all'interno un sogno che è quello di riportare in maniera plastica e anche moderna quello che era l'opera romana antica, quindi c'è un Colosseo invece che tondo che è quadrato, c'è una piazza che ricorda Piazza San Pietro, insomma è un posto molto particolare, è un posto quasi, se chi è stato a Parigi e ha visto la Défense, che è quel quartiere che è esattamente di rimpetto all'Arco di Triomphe e alle Champs-Élysées, lì hanno cercato di fare una sorta di EUR moderno e forse ci sono anche riusciti, però insomma ecco l'idea è quella, è quella di trasportare la storia nella modernità e lì dentro ci sono quei disgraziati di quella della mia storia. Ecco diciamo vicende molto forti anche, una storia che cresce man mano che la si legge proprio con un ritmo frenetico come dicevo prima e personaggi ispirati come dicevi tu alla realtà e il protagonista Fausto Colasanti, detto Tyson, è un uomo che io definisco un po' con una doppia anima, no? Perché è, come dicevi tu, un grande appassionato di musica, quindi una persona anche sensibile, con una certa cultura proprio per questa passione ed è un uomo che ovviamente vorrebbe cogliere questa opportunità che gli viene data per riprendere in mano la propria vita. E poi dall'altra parte c'è quest'altra anima, questo di Tyson, questa un po' più violenza, no? Che poi alla fine emerge per forza maggiore perché vivendo in certi ambienti, certe difficoltà, magari è proprio quella parte che gli permette di sopravvivere a una vita dura. Io ho cercato già dal titolo di raccontare quella che è un po' il destino dei soprannomi, che sembra una banalità, ma in realtà in certi contesti il soprannome, cioè il nome che ti affibbiano gli altri, quelli che ti sono attorno, in un certo senso ti qualificano e ti condannano. Lui è chiamato Tyson da quando è ragazzo ed è vero quello che tu dici, lui ha quest'anima violenta, in realtà lui ha imparato a risolvere i conflitti e le brutture della sua esistenza attraverso la sua indubbia capacità di picchiare, perché poi diciamocelo, questo è. E nella storia accade qualche volta, non sempre, non è la storia di un picchiatore, è la storia di uno che di fronte a una ingiustizia o a una offesa obiettivamente che meriterebbe in un certo qual modo vendetta o comunque reazione, lui reagisce nell'unico modo che sa fare, lui non si controlla e questo suo non controllo per durante, negli anni, io lo racconto attraverso dei flashback che lo ci riportano da quando era ragazzo e poi nell'età più matura, lo hanno in qualche modo condizionato. La cosa che a lui tocca molto è che il commendatore Peroni, che prova ad assumerlo in questa sua villa, non conoscendo il suo vissuto, lo chiama per nome e cognome e lui si sente una persona nuova, si sente con una nuova opportunità perché in quest'ambito nessuno lo chiama Tyson. Il messaggio poi in fondo, a volerla stringere, se di messaggio si può parlare quando tu scrivi un noir e lo scrivi con una serie di accadimenti, io non volevo certamente scrivere un libro sociologico o psicologico, però poi viene fuori perché lui in un certo qual modo cerca di togliersi la corazza, il vestito di Tyson che lo ha accompagnato per tutta la vita per ritornare a essere una persona normale. Ci riuscirà? Non lo sappiamo, o meglio io lo so, tu lo sai, ma chi non l'ha letto non lo sa. E devo mordermi la lingua per cercare di non far emergere troppe particolari. Nelle presentazioni che faccio in pubblico mi rendo conto che andiamo subito in difficoltà perché accadono cose già dall'inizio della storia e accompagnarla non si può, però ti concedo di parlare del nucleo centrale di questo libro che è la gabbia. Possiamo raccontare che esiste una gabbia all'interno di questa villa. Che cos'è questa gabbia? È una cosa che negli Stati Uniti c'è e il nostro Comandatore Peroni la copia da Los Angeles a degli amici. Praticamente è una gabbia che rinchiude gli eventuali malviventi, ladri. Li rinchiude e un operatore che è fuori chiama la polizia, i ladri vengono arrestati, colti in fragranza di reato e la gabbia si deve aprire. Cosa succede però? Succede che qualcosa in questo movimento va storto perché se il guardiano è Tyson e il suo amico un po' scellerato, un po' fuori controllo come pennello, l'altro suo collega, ecco che qualcosa di straordinario accadrà in questa vicenda. Però la gabbia mi interessa proprio questo, cioè chi entra in gabbia è indubbiamente fisicamente in gabbia, ma in un certo qual modo dirige le operazioni, cioè tiene sotto scacco chi è fuori, perché chi è fuori ha tutto da perdere, come Tyson, e chi è dentro non ha nulla da perdere. Difatti mi ha impressionato proprio questo, avere il controllo su chi sta dentro la gabbia alla fine di mettere in un certo senso in gabbia nel caso della storia, non voglio spogliare. No, no, però quando in gabbia hai gente, quando in gabbia hai gente che non ha niente da perdere e tu invece da fuori un errore per te significherebbe la perdita del lavoro, la perdita della stima di questo commendatore Peroni che è un uomo molto importante, molto collegato, lo dico subito, non c'entra niente con la birra, lui si chiama Peroni semplicemente perché mi piaceva come cognome nell'inventarlo e perché doveva essere il più distante possibile da uomini che gli somigliano molto, come potrebbe essere della valle, come potrebbe essere insomma grandi industriali italiani che hanno fatto e che fanno la storia dell'industria della manufatturiere italiana. Ecco, lui è uno che dirige le fila attraverso quello che è questo incrocio tra i suoi dipendenti e i maldiventi. Ecco, un altro particolare che mi è piaciuto molto e che è anche emblematico in un certo senso è proprio il fatto che l'arte, in questo caso la musica, riunisce in un certo senso due mondi diversi come Tyson e il commendatore Peroni e sfuma un po' quelle linee di confine fra due uomini così diversi fra loro. Esatto, alla fine però è fuorviante. Io ho cercato di raccontare proprio questo, cioè perché uno come il commendatore Peroni si fida di uno come Tyson? Perché lo assume? Perché gli consente di usare i suoi dischi? di toccare le sue cose, no? Perché? Perché c'è quel legame quasi incosciente con l'arte, appunto con la musica, no? Loro hanno gli stessi dischi, gli stessi gusti e si riconoscono. Però se ci pensi è del tutto aleatorio. Dura il tempo di un concerto, dura il tempo di un disco, perché poi tolto il vinile, cioè tolta la puntina dal vinile, quello ritorna a essere un disgraziato senza arte né parte e l'altro torna a essere quello che era. Cioè io ho voluto raccontare questo, la caducità dei legami tra due classi sociali così diverse che può essere sì effimeramente legata dalla musica, ti può distogliere. Peroni si fida ciecamente di Tyson subito, da subito, gli concede quella nota di credito che è dovuta solo al fatto che lo ha riconosciuto come amante, come innamorato della sua stessa musica, però ho pensato sempre all'acqua e all'olio, tu li agiti il tempo di un disco e quelli sembrano insieme, ma poi quando lo rimetti a posto la separazione ritorna netta perché sono immescolabili. Forse è anche un po' amara come constatazione, però è così. Allora, questo libro secondo me, te l'ho detto già tempo fa, secondo me può diventare tranquillamente un film, io lo vedrei proprio sul grande schermo, c'è questa possibilità? Beh c'è questo sogno, io quando l'ho scritto non ci ho pensato, però chi l'ha letto ha detto come te che lo vede già in azione, sembra scritto già per un copione, anche teatrale se vuoi, essendo tutto ambientato in una villa potrebbe pure diventare teatro, anche se credo che le emozioni, i flashback e il vissuto dei protagonisti meriterebbero uno spazio diverso e quindi cinematografico. Ecco, però io credo che sì, potrebbe essere una storia per il cinema perché è una storia che sembra a tutti gli effetti vera e che è condita da verità. Qualcuno li chiama gli urban crime oppure i noir metropolitani, però secondo me è molto vera come storia, è una storia possibile ed è una storia che poi alla fine, al di là della violenza, della suspense, dell'azione, io credo che conservi, che lasci, almeno in chi l'ha letto, io ascolto chi legge, credo che lasci proprio quella sensazione di umanità ritrovata e perduta rispetto ai personaggi. Ci sono tanti personaggi in questa storia, sai che una volta mi sono divertito a contarli, sono circa 32, è chiaro che non sono tutti i protagonisti, altrimenti sarebbe guerra e pace, insomma non sarebbe, lo chiamavano Tyson, però 32 personaggi che ruotano attorno a questa villa, in un certo qual modo, chi per un verso, chi per un altro, e sono tutte anime diverse di una stessa solitudine. Ecco, se proprio ti dovessi dire quello che è il punto di unione di tutti questi personaggi, è la solitudine, è il non contare niente per nessuno, è questa ricerca disperata di essere qualcosa e di essere qualcuno. Tanti personaggi però, sei riuscito a dare un'anima, uno spazio, una dimensione ad ognuno di questi personaggi, con storie molto diverse tra loro, ma con storie importanti. Ma io, a me è piaciuta molto quella incursione, che poi è stata anche criticata da chi ha letto il libro che ha letto prima, nel senso che in un noir come questo, a un certo punto compare l'amore e arriva in maniera quasi nascosta, quasi giustificando per certe azioni, cioè a me, a un certo punto, uno dei protagonisti, non posso dire cosa e chi, però a un certo punto mi serve, da un punto di vista di costruzione, che si innamori di qualcuno per allontanarsi dalla scena. Però quella parte lì a me è sembrata l'unica parte che era necessaria, cioè in un mondo così cattivo e senza speranza, questa donna che lavora da Burger King e cerca di mantenersi due figli senza un compagno, senza un marito, mettendo da parte proprio, come dire, la sua femminilità per essere mamma e lavoratrice, che incontra quest'uomo che lavora e che è solo e che ha disperato bisogno di amore. Ecco, l'incontro di quei due ogni volta che lo leggo mi commuove, perché penso che poi in fondo la magia dell'amore sia proprio questo, sia dare una dignità a se stessi e all'altro che si incontra. E in fondo, in fondo, se tu ci pensi, tutti i ragazzi, quelli più giovani, il nostro amico Tyson, Pennello, chi è più grande, chi è più giovane, chi è più realizzato e chi non, in effetti in questa storia, ci ho pensato veramente dopo, dopo che l'ho scritto, in tutta questa storia questi personaggi cercano qualcuno che gli dia una pacca sulla spalla o che gli dia un bacio, cioè qualcuno che sia, come dire, dalla loro parte, perché nessuno è dalla parte dei personaggi. E questo è quello che fa parte poi della realtà, della quotidianità, della vita di tutti i giorni. C'è anche, fortunatamente, l'amore, c'è anche, ci sono anche storie belle, quindi ci sta perfettamente, io sono d'accordo con te. Ho cambiato editor, non ho cambiato romanzo. Hai fatto benissimo. Ma ci potrebbe essere un secondo libro, un seguito per Tyson? Se lo chiamavano Tyson diventerà qualcosa di audiovisivo, sì, me lo sono imposto solo in quel caso, perché è chiaro che, senza spoilerare, madonna quanto è difficile raccontare un romanzo senza raccontarlo, ma insomma, io credo che le vicende rimangano in qualche modo appese e si prestino anche a una rivisitazione, insomma, no? Qualcuno forse farà qualche anno di galera, qualcuno gli cambierà la vita dopo questa storia e quindi si potrebbero in qualche modo ritrovare dopo qualche anno. Io, sì, mi piacerebbe scrivere, ma nel frattempo ne ho scritto un altro che uscirà a maggio, un'altra storia completamente diversa e quindi nel frattempo il mio Fausto Colasanti, detto Tyson, sta riposando e vediamo poi se riuscirà a uscire fuori e finalmente a trovare quello che cerca, che in fondo è la pace, che sembra una cosa semplice, ma invece non lo è assolutamente. E allora ci dedicheremo anche al prossimo libro, attendendo forse, chissà, un secondo libro su Fausto Colasanti o magari, perché no, anche un film. Io ti ringrazio, Mauro, per essere stato qui con me e ci aggiorniamo, ci risentiamo presto. Quando le conversazioni sono belle, non ti accorgi che stanno già finendo e quindi ti ringrazio te perché sei una bravissima padrona di casa. Mi sono accomodato e mi sono raccontato con molta serenità, quindi ti ringrazio. Grazie a te, è stato difficilissimo, mi sono morsa alla lingua perché tante cose da dire su questo libro, ma non posso togliere il piacere a chi lo leggerà. Quando finiremo questo collegamento potrai poi domandarmi quello che vuoi. Perfetto, grazie mille, a presto. E grazie a te, ciao.